1v1, 1v1 ragazzi, 18 kill, 18 kill, vi giuro se è aperto questa, la madonna che, le madonna che tiro sono, non, proprio, non lo so manco io Ragazzi io vi giuro, proprio ve lo giuro, che se non mettete like a questo video, ma non perchè vi sto chiedo di mettere like Ma per il partitazzo della madonna di Gesù che ho fatto, giuro che mi butto dalla finestra, spacco tutto, perchè un mi piace a questo video deve essere garantito, assolutamente Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, qua è Omega, bentornati a bomba, perchè in questo video ragazzi ho dato il meglio di me, dopo alcuni video precedenti che avevo fatto Dove addirittura avevo fatto più kill, ma non ero, insomma non era andata a finire bene, avevo deciso di non caricarlo, questa volta è stato diverso Quindi questa volta forse vedete una delle mie migliori, se non la migliore partita in assoluto, ma non perchè sono state fatte tante kill, ma come è stata gestita la partita Quindi sicuramente ci sarà veramente il casino, il bordale, ho già vi avviso, quindi mi raccomando, un bel pollicione su, iscrivetevi al canale per vedere altre bombe del genere Mi raccomando, commentate, ditemi, Omega ci è piaciuto, Omega bomba, Omega feneva via power, perchè si ragazzi ci può anche stare Cioè, mo vedrete perchè sicuramente vi piacerà tantissimo, quindi mi raccomando, ricordo anche di seguirmi su Instagram che trovate qui e in descrizione Basta cercare chiacciare l'entoni, venitevi a seguire subito, mi raccomando fatelo tutti quanti ragazzi, tanto ci mettete un secondo e vi posso salutare tutti quanti Bene, direi che è ora di impugnare il joystick E di spaccare tutto Bene ragazzi, direi che ci siamo, possiamo scendere subito qua, subito immediatamente direi Ovviamente, quale città migliore per fare un record se non partire dalla buona e vecchia pinnacoli Ovviamente, sempre per forza lei Allora, spiega per la caduta intanto Mi chiedo, alla fine ragazzi mi chiedo come si fa a fare tanti achilli in una partita perchè devi essere fortunato muore va bene da dentro ai colpi devo essere fortunato perché comunque devi avere l'affluenza di gente giusta che ti viene tutta in una botta vicino e non è facile assolutamente non è per niente facile fare una cosa del genere comunque dovrebbe esserci qualcun altro qui intanto vi sparo gli scudi eccolo ma è scemo è stupido non mi ha visto manco compa mettiti gli occhiali zio direi che così possiamo andare c'è finito non c'è più nessuno Ok sento uno Oh eccolo Ciao Enjoy Ciao Ciao Zasgara E un altro è andato Siamo a quota 3 Beh ragazzi a me non mi dispiacerebbe uscire anche con 7-8 kill da pinnacoli Ragazzi questa partita mi sento particolarmente casato ve lo dico Speriamo che non finisce che arrivo a 10 kill e muoio a metà partita Ok Ci penso io tranquillo Guarda guarda Easy Dove stai guardando zi Dove stai guardando Dove stai guardando fratello Avetevi guardato fratello Vai 4 kill Dai non me ne vado da qua almeno se non è oltre 4 Almeno Almeno Perché tanto ormai ragazzi si sa Per fare tante kill in questo gioco Bisogna andare ai pinnacoli Sponde Magazzino Quella è la zona di affluenza che tra l'altro è anche la centrale Oh ma quello è uno Oddio Oddio non l'avevo visto proprio Cioè l'avevo visto saltando lo disguincio all'improvviso Ok sparassi gli scudini così però Non è molto bello Dove sei? Eccomo 3 ore faremo nascondino giustamente Sti palazzi enormi per trovare i cristiani adesso Ma che sta spaccando le uova col sedere che non lo trovo questo Ragazzi vi giuro mi sto avendo un nervoso Non riesco a trovare il cristiano da nessuna parte Oh c'è un teschio? Vuoi fare uno contro uno contro la redhead rider? Va bene dai buttati vediamo Allora innanzitutto ti faccio crollare subito Dai 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 vediamo Fammi vedere che stai fare Fammi vedere che stai fare Dai vieni 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 Dai vieni qua Annaccia questa è la scappa Ammo nel laccio Ti faccio vedere io Stai tranquillo Bratata Dai esci lo so che uscirai Andiamo con la Thompson Ok Dai Ah Era one shot No ma c'è più o meno Si sarà aspetto di scudini Ok Vediamo gli scudini via di qua subito Perché ci possono calcolare tutto E poi il danno da caduta sarà Non indifferente e moriamo Sì ma quello iniziale dove sta? Muori Muori Ok dai E' Nabbo si vede E' Nabbo Uno Nabbo l'abbiamo trovato Allora Vediamo se riesco a prenderlo un po' per il culo Ok Ce l'ho fatta Mettiamo una trappola Ah no stava la trappola Già bene Beh ragazzi Direi che abbiamo 7 kill L'obiettivo in parte è riuscito Perché ha detto almeno 8 kill Non so Non penso ci sia più nessuno A meno che non arrivi all'ultimo nome Aspettate ho sentito Ho sentito un overboard Beh Mori Mori Tranquillo Rati Arriva a tirare una pompata Bam Oddio l'ho preso in testa L'ho sciolto Oh siamo 8 kill signori Bello E buttiamo una palla così a vuoto Ah no stai Meglio non rischiare Vabbè perché ho sentito anche qualcun altro Che sta arrivando Masticosi di aria compressa Ma quanto me stanno a rompere Un altro ancora E quanti sono No no dai È one shot quello È bianco È bianco È bianco Paralo Spaccagli la base Spaccagli la base Puoi cadere Mannaggia tua Ah E almente L'altro È scappata Meno male che la safe è qua ragazzi Prendiamo un po' di lutto Veloce Veloce In safe In safe In safe Vieni Vieni Oh Cavolo ragazzi Non mi avevo messo il muro sotto Non avevo messo il pavimento sotto Cioè vabbè Sì avete capito Oh Madonna no NA sticosio che nervi schiaccia height schiaccia eh ma mi uscile vestiamo ma questi equisée mi sono due volte per morire diamamyo se hai capito con chi è chata la ste vedendo vieni qua vieni qua venii ragazzi local shape i lunghi Quanta vita E muori Mi sto seccando veramente Mi sto seccando Muori, muori, muori Finalmente Ecco che arriva Nato Consiglio dei fatti suoi E almeno lasciatemi respirare E dai vai col prossimo Forza Kitok Carica, carica, carica Costruisci già un po' Viva subito Dov'è? Ah è sotto Attento Attento megozzo Muori, muori Olè In testa proprio Sciolto immediatamente Il legno stiamo scarseggiando un po' Però va bene Sto avendo una strana sensazione ragazzi Adesso come push Adesso push come un animale ragazzi Sto casato 11 kg Rimangono ancora 20 Possiamo realmente superare il mio record Che vi ricordo di 22 Se facciamo 24 è meglio Eccolo Vieni Vieni 99 99 Fare 100 Non ti piaceva E mi modifichi Eh vabbè dai Troppa velocità Non mi fa modificare nemmeno No Vado sti così Giuro ragazzi Che se perdo per colpa Di questi così di aria compressa Sento voli ovunque Non sto capendo nulla Eh appunto ecco Ce ne sta un altro Ok tranquillo Che io vi faccio il giro easy Bomb In testa Vai 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 Ah bello Uh lo scarra E il pompa dorato Oh Un altro ancora E basta Oh ma Mi ho portato a avere un attimo di pace Su sto gioco no E muori Oh è morto subito Uh è morto subito Attenzione 14 bombe Signori Vai così E la partita non è ancora finita Ne mancano altri 13 Ok Penso che abbiamo tutto Ah no Lo scar Lo scar E il pompa dorato Più che altro Guardate la casualità Cioè Vedete Non è il fatto di essere Scarso forte Per fare tante kill Si devono proprio trovare le persone Tutte congiunte E nello stesso posto Ecco perché non è facile Oh ma Sbaglio quella è una persona Sì sì È una persona Sbaralo sbaralo Uh Oddio ragazzi Vi giuro L'avevo visto mimetizzato Tipo ok tranquillo 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 Piano 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 Non mi devo far prendere l'ansia Piano piano Ma in questo gioco mi faccio prendere l'ansia A volte sbaglio Ah ho usato la granata eh E va bene Dai 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 vediamo se riesco ad arrivare a fine qua Sicuramente sta dietro l'albero Mi ci gioco la nonna ragazzi Che sta dietro l'albero Vai 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 Mi sto un po' rompendo sinceramente No potremmo sparare adesso Olè Era Wanshott Infatti era Wanshott Spariamo qua esto Oh 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 Oddio Oh bastardo Infame Aguatto Lurido Battuto tutto lo scudo Guarda sto lurdo Allo Questo ha capito male No perchè lo sto sparando No no ho sbagliato Ho sbagliato io Vai Oh 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 Oddio Non ci credo ragazzi in colpo Io l'ho rubato Ma sono passi con il casel Oh 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 Ah guarda che infame ho Me voleva fotte Me voleva venire da dietro Tu hai capito proprio male Sì Hai capito male proprio Sto lordo Piia Pia Pia Sì Eschka Temprim Queste cose non le fate mai ragazzi eh Mi voleva venire da dietro Voleva fare l'infame Venirmi da dietro Ok, considerando che siamo in tre Uno sta là, uno sta là E ora di usare la rift Ho vinto No, ho vinto, ho vinto ragazzi Ho vinto, ora prendo le ground e ho vinto Vai, 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 vai L'ho citata, se è perdo sono Mi giuro che mi incazzo Bene, dovrete venire tutti da me adesso Perché uno sta campionato giù A meno Da quello che ho capito Vai, vai, vai No, gli ho dato solo un po' di scudo E lo mi devo liberare ragazzi Ecco l'altro, ecco l'altro No, no, no Meno male Meno male Oddio 1v1, 1v1 ragazzi 18 kill 18 kill Vi giuro se è aperto questa La madonna che Le madonna che tiro sono Non proprio Non lo so manco io Vai, vai, vai Stai già facendo Oh, 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 oh No, 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 no Non disepa assolutamente Costruisci Vai, vai Vieni qua, vieni, fatti sotto Oh merda Oh merda Questa l'ho sentita Questa mi ha fatto male Questa mi ha fatto veramente male No, mi devo fare gli scudini 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 Eh, sì È la safe Che mi ce l'ho nel culo Ok, è sceso È sceso Ho le ground Ho le ground Sì No Sì, sì Bello, bello, bello Bello Vai col pompa In testa, in testa BAM No Cioè, posso essere uscito da uno che si chiama DadMods Lui mi ha battuto con 5 kill C'avevo 5 kill ragazzi C'avevo 5 kill E ne avevo 18 Ok, ho sbagliato io Non mi sono tirato gli scudini per la fretta Questa volta ho sbagliato io Errore mio Peccato perché Vabbè, sono arrivato secondo Per carità Però peccato Potevo vincere, no? Io spero che il video vi sia piaciuto Spero che le 18 bombe vi siano piaciute Quindi mi raccomando Lasciate un bellissimo mi piace Iscrivetevi al canale E commentate Madonna, che nervi Mi porto le trancone addosso Ma si può arrivare secondi così ragazzi Perché miseria Dai, era morto L'avevo preso pure in testa Si è spostato all'ultimo Ha fatto un passo alla Michael Jackson Ha evitato il colpo del pompa dorato Quello schiattava Ragazzi Grazie per essere stati con me anche quest'oggi Per aver visto queste 18 bombe insieme Spero vi siano piaciute Noi ci sentiamo tutti quanti Al prossimo video Per questo video è tutto Qua è il ragazzo E brava per tutti quanti Ciao 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 Grazie a tutti.